L'Hockey Club Molfetta è uscito sconfitto per 3-2 dal primo storico derby di A1 contro la FP Giovinazzo. Un risultato meritato per i biancoverdi ospiti, ma che non ha affatto ridimensionato le ambizioni della squadra del presidente De Palma. Un derby che ha avuto una eccezionale cornice di pubblico e nel quale l'unica nota stonata è stata la mancanza di calore da parte dei pur numerosi tifosi di casa, come ha conformato patron Massimo De Palma. È stato un derby tanto atteso e tanto voluto nella storia sia dell'Hockey Club Molfetta che dell'FP Giovinazzo, perché per la prima volta le due squadre si sono incontrate nel campionato di massima serie. Sicuramente il derby dal punto di vista sportivo non è stato a favore dell'Hockey Club Molfetta, ma c'è una nota negativa in tutto questo che non è solo il discorso sportivo, ma anche il discorso del tifo. Abbiamo avuto un'affluenza da parte di Giovinazzesi, un grande incitamento da parte di Giovinazzesi nei confronti della loro squadra, a differenza dei tifosi molfettesi che sembravano molto freddi a questo evento. Per lo più perché si assisteva a una gara a livello nazionale, quindi parliamo di Serie A1, dove avevamo bisogno del supporto e dei nostri supporters che sono mancati. Da parte della società si è provato in mille modi ad avvicinare gente a questo sport, ad avvicinarli con i buoni risultati, ma nonostante questo non ci si riesce ancora oggi a spiegare tutto questo allontanamento, ma più che altro questa freddezza che c'è nei confronti dell'Hockey. Nonostante i buoni risultati ci siano, voglio ricordare che siamo a tre punti dopo tre gare, che abbiamo battuto il Viareggio, c'è stata un'ottima prestazione contro il Valdagno, un'ottima prestazione contro il Giovinazzo, chiaramente il campo decide chi è il vinto e chi è il vincitore, ma anche in questa occasione siamo usciti a testa alta e non abbiamo dimostrato di non potercela giocare con tutti, ma questo è il nostro rammarico, non avere il pubblico e non avere i tifosi che ci possano dare quella spinta in più per portare tutti i risultati positivi in Cassa Biancorossa. La strada verso l'obiettivo playoff è comunque ancora aperta, questo hockey club ha dimostrato di essere capace di poter andare lontano.